Intimidazione nei confronti del magistrato Eugenio Facciolla, giudice civile al Tribunale di Cosenza e già procuratore della Repubblica Castrovillari. E' quanto ha reso noto il legale del magistrato, l'avvocato Ivano Lai, che parla di un inquietante e violento episodio verificatosi all'interno dell'automobile del magistrato, parcheggiata sotto l'abitazione familiare di Cosenza. Il responsabile dell'atto di intimidazione, verosimilmente lì non per consumare un atto predatorio, dice il legale, è riuscito a dileguarsi durante la colluttazione ingaggiata contro il dottor Facciolla, non più sotto scorta né sottoposto ad alcuna tutela, mentre sopraggiungeva un passante e veniva dato l'allarma ai carabinieri prontamente intervenuti. L'episodio si inquadra, secondo l'avvocato Lai, in un più ampio e non meno preoccupante contesto di inseguimenti e tentativi di intromissione nella privatezza del magistrato e dei suoi familiari, costituenti atti comunque intimidatori, sui quali le autorità giudiziarie cosentine e salernitane sono state chiamate a far luce, almeno apparentemente senza successo. L'ex procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, è accusato di corruzione e falso in un processo che ci celebra davanti al Tribunale di Salerno, competente per i rati contestati ai magistrati del distretto di Catanzaro.